Compie 18 anni il premio internazionale Gioe Petrosino, un premio concepito per sensibilizzare verso la lotta alla malavita e promuovere e valorizzare coloro che hanno intrapreso azioni forti, a rischio anche della loro stessa incolumità per il trionfo della legalità. Un premio voluto fortemente dall'Associazione Internazionale Gioe Petrosino, presieduta da Vincenzo Lamanna, che ricordando il sacrificio del poliziotto italo-americano nato a Padula e morto a Palermo, dove si era recato nell'ambito delle indagini contro la mano nera della mafia, hanno voluto omaggiare gli eroi di oggi, che tutti i giorni sono in prima linea per contrastare la delinquenza. Negli anni l'Associazione ha premiato grandi nomi, che sono esempio di legalità e rispetto delle regole, a cui si è giunto, in questa diciottesima edizione, il magistrato Catello Maresca, che ha condotto in prima persona le indagini che hanno poi portato alla cattura dell'ultimo dei casalesi, Michele Zagaria. 18 anni di legalità raccontata nel nome di Gioe Petrosino, primo poliziotto ucciso dalla criminalità organizzata ed eroe di ieri e di oggi. Grazie all'Associazione Internazionale Gioe Petrosino e del pronipote del poliziotto nativo di Padula, Nino Melito Petrosino, il nome di Gioe Petrosino è ormai immortale. Tantissime le personalità presenti a Padula presso la Certosa di San Lorenzo per questa diciottesima edizione del Premio della Legalità, tra cui anche la Presidente dell'Associazione Gioe Petrosino Sicilia, Anna Maria Corradini. Tra i premiati anche il colonnello dei carabinieri Massimo Giraudo, il testimone di giustizia Luigi Coppola e il sindaco di Petrosino in provincia di Trapani, Gaspare Giacalone.